La tecnologia è uno strumento importante nel lavoro di oggi. La tecnologia è il mezzo per creare, non il fine. Il digitale crea tipi di lavoro che decenni fa non esistevo neanche. Secondo me è meglio avere un'apertura più grande della mente sull'uovo e imparare a collaborare in gruppo, tutti insieme, piuttosto che stare ore sui libri e imparare nozioni. Non si deve avere paura delle cose nuove perché tutto va a cambiare. Non è utile imparare nozioni perché già i computer hanno più memoria di noi. Essere sempre aggiornati sui cambiamenti del mondo. E chissà se sbuca una prospettiva nuova.